La furia del maltempo ha investito la Puglia provocando gravi disagi e danni. L'ultima domenica di settembre, in particolare nel Salento, ha portato una tromba d'aria a Lecce con conseguenze documentate da foto e video virali sulla rete. Alberi caduti sulle auto, allagamenti e non solo. Il sindaco Carlo Salvemini ha disposto la chiusura di diverse scuole per consentire il ripristino dei luoghi dopo un lungo confronto con i dirigenti scolastici interessati. La zona sud-ovest di Lecce è quella più colpita dalla tromba d'aria. Il bilancio fortunatamente non vede feriti, ma i danni restano ingenti. Per rimuovere gli alberi sono stati attivati i volontari del coordinamento provinciale della protezione civile su richiesta dei vigili del fuoco di Lecce per il supporto e le attività di messa in sicurezza e rimozione di tutte le alberature divelte e pericolanti. Al lavoro anche la polizia locale, ma in maltempo ha provocato danni anche nelle altre province pugliesi, in particolare a nord di Bari e a Foggia, dopo le ingrandinate e le forti raffiche di vento registrate tra sabato e domenica. Un bollettino di guerra, secondo Coldiretti Puglia, che ha offerto una prima stima dei danni. Ulivi spogliati, serre di velte, smottamenti. Le campagne più danneggiate sono quelle di Terlizzi, Ruvo di Puglia, Modugno, Giovinazzo e Molfetta, nel Foggiano, San Severo, Lucera, San Nicando Garganico e Torre Maggiore. Diversi campi rimasti allagati per ore, possibili conseguenze gravissime per il comparto agricolo.